Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video come avete letto dal titolo questo è un video un po' diverso dal solito, un po' tanto se si può dire diverso dal solito, perchè anche io voglio provare a fare degli esperimenti quindi esperimenti creativi insieme a voi perchè ho trovato parecchi esperimenti navigando un po' su internet e volevo provare a farli insieme a voi, a pasticciare con voi perchè in primis a me piace pasticciare, creare, provare poi sono contenta se piace anche a voi ma oggi andremo a fare come avete letto dal titolo e visto dalla foto un sapone wishy flubber slime ingredienti tra virgolette che ci servono ci serve del sapone per le mani come potete vedere normalissimo sapone per le mani quello che usate voi per lavarvi le mani va bene trasparente, va bene bianco, va bene dello shampoo va bene qualsiasi cosa voi desideriate poi della maizena, questo è molto importante ossia dell'amido di mais perchè serve per addensare poi se volete rimanerlo bianco va benissimo ma se poi volete colorarlo io ho dei coloranti alimentari ossia questo qua in polvere oppure questi qua liquidi allora la prima cosa che dobbiamo fare è mettere la maizena all'interno di un piattino vorrei colorarlo vado a mettere il colorante all'interno del sapone e mischiamo vado a mettere poche gocce vediamo se funziona più che altro oddio no che figata adesso cosa andiamo a fare andiamo a mettere quello che abbiamo ricavato dentro al piattino con la maizena andiamo a mischiare no ragazzi guardate oh mio dio che figata assurda guardate guardate oddio ma a parte che è venuto tipo un azzurro troppo bello guardate beh se lo compatto tipo è duro poi se lo lascio si scioglie guardate che figata che figo wow guardate avete visto come mi è riuscito questo guardate guardate che figata adesso lo voglio fare voglio provare a farlo rosso o rosa tra virgolette voglio metterci anche dei brillantini dentro poi voglio metterci anche dei brillantini proviamoci a mettere dei brillantini li vado a mettere sempre dentro al al sapone guardate che figata vado a metterlo poi dentro il mio amido di mais sperando che cioè i brillantini si vedano ma a quanto pare vedo che non si vedono i brillantini mettendolo nella farina i brillantini non si vedono avrò fatto un epic fail molto probabilmente si mi sa che i brillantini non si vedranno ma vabbè pazienza noi ci proviamo se vedete che è sempre molto liquido ovviamente voi mettete altro amido di mais oddio che figo però i brillantini non si vedono come temevo infatti è venuto rosso non è venuto rosa uffa lo volevo rosa un po' si vedono i brillantini dai ragazzi guardate che figata guardate c'è troppo figo questo di regola dovrebbe funzionare anche per lavarci le mani adesso noi andiamo a vedere se funziona ok ragazzi è arrivato il momento di provare eccolo il nostro sapone barra squishy perché guardate com'è com'è bello squishy flubber vado ad aprire l'acqua beh non vi preoccupate perché comunque il colorante non vi colora le mani guardate ho le mani praticamente normali però che figo guardate funziona oddio è una figata assurda se casomai metteste il colorante rosso guardate non vi colora le mani di rosso anzi vi fa rimanere le mani normalissime è il risultato guardate che figo è troppo una figata quindi a quanto pare l'esperimento è riuscito come avete potuto vedere mi raccomando se volete potete usare comunque i coloranti che volete potete sbizzarrirvi con la fantasia quindi come volete voi se non volete il colorante rosso non mettetelo il colorante blu non mettetelo potete farlo benissimo bianco normale come più vi piace c'è un disastro sulla tavola vi vorrei far vedere c'è proprio un disastro esperimenti creativi disastrosi dovrei chiamarlo se vi piace questa rubrica degli esperimenti creativi fatemelo sapere sotto con un commento perché ovviamente io mi diverto insieme a voi se volete divertirvi anche voi insieme a me fateli anche voi lasciatemi un commentino sotto e un mi piace ovviamente se vi piacciono questi esperimenti e se ne volete altri suggeritemeli sotto in un commento se volete spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto se volete contattarmi ci sono i miei social sempre in descrizione facebook instagram e le mie playlist dei miei video assaggi video ricette e video creativi tra cui questo qui degli esperimenti creativi e niente con questo è tutto vi mando un enorme bacione un abbraccio fortissimo e noi ci vediamo domenica alle 11 con un nuovo video bye bye ciao